Ciao a tutti in questo nuovo video. Oggi apriremo due uova di Pasqua, il Kinder Jurassic World con gran sorpresa e il Buche Flamingo che contiene 5 uovo di Pasqua più un finicottero. Iniziamo dal Buche Flamingo. Apriamo, leviamo il fiocco. Allora, dopo un'eternità sono riuscita a levare tutta l'incartativa e la sorpresa è questo finicottero portachiavi, super squiscioso e 5 uova. Assaggiamone un po', questo è cioccolato al latte c'è scritto. Allora, scarpiamo e rompiamo. Buonissimo ragazzi. Assomiglia a quello Kinder. È veramente buono. Quest'anno al Kinder hanno semplificato l'apertura. C'è un nastrino che si leva più facilmente. ok. Apriamo e rompiamo. Ragazzi guardate, è pieno di linee. Con la scritta Kinder. la base e, come tradizione, lo apriamo col pugno. È durissimo. Ok. Ho fatto un buco. Guardate qua. È strano. Cos'è? Il cioccolato è buonissimo. Però vediamo che sorpresa è. Ragazzi, quella cosa che intravedevamo era il sorpresone che praticamente sembrava un uovo del dinosauro. Però ora apriamo e scopriamo la nostra sorpresa. C'è scritto che si può scaricare un'app in cui si deve far vedere questo simbolo e sembra che il dinosauro si muove. Ora costruiamolo. Non dovrebbe essere troppo difficile. Ragazzi, nelle uova sono uscite questa la prima sorpresa e questa la seconda sorpresa. Votate la sorpresa che vi è piaciuta di più sotto nei commenti e al prossimo video. Ciao! Ciao!